Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico tra Aglio e Barberino nella carreggiata in direzione sud. Fipili per lavori all'altezza del turbone, 2 km di coda tra Impoli-Est e Ginestra verso Firenze, coda di 1 km in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Il tratto, compreso tra Ginestra e Montelupo, sarà inoltre chiuso nelle due direzioni dalle 22 di domani, 16 luglio, alle 6 del 17 luglio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze, da oggi al via Rifacimento in Pietra di Borgo-Santa Croce, in seguito al lavoro di Toscana Energia e Publiacqua. Il cantiere interessa prima i marciapiedi e poi la carreggiata. La strada sarà chiusa per quattro mesi ed è previsto inoltre il doppio senso in via Magliabecchi. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e con Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!